Di Victor Hugo, I miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte quinta. Jean Valjean. Libro settimo. L'ultima sorsata del calice. Capitolo secondo. I punti oscuri che una rivelazione può contenere. Marius era sgomento. Quella specie di avversione che aveva sempre nutrito per l'uomo accanto al quale vedeva Cosette, ormai si spiegava. C'era in quell'uomo un non so che di enigmatico che il suo istinto avvertiva. Quell'enigma era l'onta più orribile, la galera. Quel fauchelevent era il forzato Jean Valjean. Scoprire bruscamente un simile segreto nel mezzo della sua felicità dava l'effetto di scoprire uno scorpione in un nido di tortore. La felicità di Marius e Cosette era ormai condannata a quella vicinanza. Era un fatto compiuto. L'accettazione di quell'uomo faceva parte del matrimonio consumato. Non c'era più nulla da fare. Marius aveva sposato anche il forzato. Sia un bell'essere coronati di luce e di gioia, un bel assaporare la grande ora purpurea della vita, l'amore felice, simili scosse, forzerebbero persino l'arcangelo nella sua estasi e il semidio nella sua gloria, fino a farli fremere. Come sempre accade, con cambiamenti repentini di tale fatta, Marius si chiedeva se non doveva forse farsi qualche rimprovero. Aveva forse mancato di divinazione? Era stato poco prudente? Se era volontariamente stordito? Un po' forse. Si era impegnato senza sufficienti precauzioni per far luce su chi le stava intorno in quell'avventura amorosa che era sfociata nel matrimonio con Cosette. Constatava, e in questo modo attraverso una serie successiva di constatazioni di noi stessi su noi stessi, che la vita ci corregge a poco a poco, constatava il lato chimerico e visionario della sua natura, una sorta di nube interiore propria a molti organismi, e che nei parossismi della passione e del dolore si dilata, variando temperatura all'anima. Assale l'uomo nella sua totalità, fino al punto da renderlo soltanto una coscienza in un bagno di nebbia. Abbiamo indicato più di una volta questa peculiarità dell'individualità di Marius. Egli si ricordava che nell'inebriamento del suo amore, in via Plumet, in quelle sei o sette settimane di estasi, non aveva neppure parlato a Cosette di quell'enigmatico dramma della spelonca Gorbeau, in cui la vittima aveva così singolarmente preso partito di tacere durante la lotta e di evadere poi. Come era stato possibile che non ne avesse parlato a Cosette? Eppure, era una cosa così vicina e spaventosa, come era possibile che non le avesse nemmeno nominato i Thénardier, in particolar modo il giorno in cui aveva incontrato Eponin. Faceva quasi fatica a spiegarsi il suo silenzio d'allora. Tuttavia, se ne rendeva conto, ricordava il suo stordimento, la sua ebbrezza per Cosette, l'amore che assorbe ogni cosa, quel rapimento dell'uno per l'altra, nell'ideale e forse anche come la quantità impercettibile di ragione mescolata a quello stato violento e affascinante dell'anima, un istinto indefinito e sordo, di nascondere e cancellare nella sua memoria quella terribile avventura con la quale temeva il contatto, in cui non voleva recitare alcun ruolo alla quale si sottraeva e della quale non poteva essere né narratore né testimone, senza essere accusatore. D'altra parte, quelle settimane erano state un lampo, avevano avuto tempo soltanto per amarsi. E infine, dopo aver soppesato tutto, tutto rivoltato e tutto esaminato, quando Ben avesse raccontato l'agguato gorbo a Cosette, quando Ben li avesse nominato i Thénardier, quali che fossero state le conseguenze, quando pure avesse scoperto che Jean Valjean era un forzato, ciò avrebbe cambiato lui, Marius, o cambiato lei, Cosette? Sarebbe forse indietreggiato, l'avrebbe forse adorata meno, non l'avrebbe sposata? No. Ciò avrebbe cambiato qualcosa di quel che si era fatto? No. Non c'era quindi nulla da rimpiangere, nulla da rimproverarsi. Andava tutto bene. C'è un Dio per quegli ubriaconi che si chiamano innamorati. Marius, cieco, scelse la strada che avrebbe scelto da chiaroveggente. L'amore gli aveva bendato gli occhi per portarlo dove? In paradiso. Ma quel paradiso era ora complicato da una vicinanza infernale. L'antica avversione di Marius per quell'uomo, per quel fauchelevent, divenuto Jean Valjean, era ora mista a orrore. In quell'orrore, diciamolo, c'era una certa pietà, eppure una certa sorpresa. Quel ladro recidivo aveva restituito un deposito. E che deposito? Seicentomila franchi. Lui solo era a conoscenza del segreto del deposito. Poteva tenersi tutto. Aveva reso tutto. Inoltre, aveva spontaneamente rivelato la sua condizione. Nulla lo costringeva. Se si sapeva chi fosse, era per lui. C'era in quel cieco più che l'accettazione dell'umiliazione. C'era l'accettazione del pericolo. Per un condannato, una maschera non è solo una maschera. È un rifugio. Aveva rinunciato a quel rifugio. Un falso nome è una sicurezza. Egli aveva rifiutato quel falso nome. Lui, un galeotto, avrebbe potuto nascondersi per sempre in una famiglia onesta. Aveva resistito a quella tentazione. E per che motivo? Per scrupolo di coscienza. L'aveva spiegato egli stesso con l'irresistibile accento della realtà. Insomma, chiunque fosse quel Jean Valjean era incontestabilmente una coscienza che si stava risvegliando. In essa c'era l'inizio di chissà quale misteriosa riabilitazione. E sotto ogni apparenza, già da molto tempo, lo scrupolo era padrone di quell'uomo. Simili accessi di giustizia e di bontà non sono tipici delle anime volgari. Un risveglio di coscienza è grandezza d'animo. Jean Valjean era sincero e quella sincerità visibile, palpabile, irrefrenabile, evidente anche per il dolore che gli recava, rendeva inutili le informazioni e dava autorità a quanto diceva quell'uomo. Da ciò, una strana inversione di situazioni per Marius, cosa usciva da Fauchelevent? Sfiducia. Cosa emanava Jean Valjean? Fiducia. In quel misterioso bilancio che Marius, pensoso, tracciava, constatava l'attivo, constatava il passivo e cercava di giungere a un pareggio. Ma tutto era come un uragano. Marius, sforzandosi di farsi un'idea precisa di quell'uomo e inseguendo, per così dire, Jean Valjean in fondo ai propri pensieri, lo perdeva e lo ritrovava in una nebbia fatale. Il deposito onestamente reso, la probità della confessione era bene. Ciò era come una schiarita nella nube. Poi, la nube ridiventava nera. Per quanto torbidi fossero i ricordi di Marius, gli tornava qualche ombra alla mente. Cos'era stata con certezza quell'avventura del Tugurio de Gendrette? Perché all'arrivo della polizia a quell'uomo, invece di sporgere denuncia, si era dileguato? Su questo punto, Marius trovava una risposta. Quell'uomo era un pregiudicato contumace. Un'altra domanda. Perché quell'uomo era andato alla barricata? Perché ora Marius rivedeva distintamente quel ricordo, riapparso in mezzo a queste emozioni come l'inchiostro simpatico col calore. Quell'uomo era alla barricata e non combatteva. Cos'era venuto a fare? Di fronte a questa domanda, uno spettro si alzava e dava la risposta. Javert. Marius, in quel momento, si ricordava perfettamente la lugubre visione di Jean Valjean che trascinava fuori della barricata Javert legato e udiva ancora dietro l'angolo della viuzza mondetour lo spaventoso colpo di pistola. A quanto sembra, c'era odio tra quello sbirro e quel galeotto. Uno infastidiva l'altro. Jean Valjean era andato alla barricata per vendicarsi. Vi era arrivato tardi, aveva probabilmente saputo che Javert era prigioniero. La vendetta è penetrata in certi bassi fondi e vi detta legge. Essa è così semplice che non sgomenta le anime parzialmente volte verso il bene e quei cuori sono fatti in modo che un criminale in via di pentimento possa essere scrupoloso sul furto e non sulla vendetta. Jean Valjean aveva ucciso Javert o almeno così pareva. Infine, l'ultima domanda ma per questa nessuna risposta. Marius sentiva questa domanda come una tenaglia. Com'era possibile che l'esistenza di Jean Valjean fosse stata così a lungo gomito a gomito con quella di Cosette? Cos'era quel fosco gioco della provvidenza che aveva messo quella bambina in contatto con quell'uomo? Vi sono dunque catene per due forgiate lassù e Dio si compiace di accoppiare l'angelo col demonio. Un delitto e un'innocenza possono dunque essere camerati nella misteriosa galera delle miserie. In quella sfilata di condannati che si chiama destino umano due fronti possono passare l'uno accanto all'altro l'uno ingenuo e l'altro formidabile l'uno tutto bagnato dai divini candori dell'alba l'altro illividito per sempre dal bagliore di un lampo eterno. Chi aveva potuto determinare quell'inspiegabile accostamento? In che modo in seguito a che prodigio aveva potuto stabilirsi una comunanza di vita tra quella celestiale piccina e quel vecchio dannato? Chi aveva potuto legare l'angelo al lupo e ancor più incomprensibile fare affezionare il lupo all'agnello perché il lupo amava l'agnello l'essere feroce adorava l'essere debole e perché per nove anni l'angelo aveva avuto come sostegno il mostro l'infanzia e l'adolescenza di Cosette il suo sbocciare la sua crescita virginale verso la vita e la luce erano state protette da quella deforme devozione a questo punto le domande si sfaldavano per così dire in innumerevoli enigmi e abissi si aprivano in fondo ad abissi e Marius non poteva più chinarsi su Jean Valjean senza vertigine chi era dunque quell'uomo precipizio i vecchi simboli della genesi sono eterni nella società umana così come è fino al giorno in cui una luce più grande la cambierà ci saranno per sempre due uomini uno superiore e l'altro sotterraneo e quello che è secondo il bene è Abele quello che è secondo il male è Caino ma chi era dunque questo Caino sensibile chi era quel bandito religiosamente assorbito nell'adorazione di una vergine che veglia su di lei innalzandola sorvegliandola rendendola degna e avvolgendola lui in puro di purezza chi era quella cloaca che aveva venerato quell'innocenza al punto di non lasciarle una macchia chi era quel Jean Valjean che aveva educato Cosette chi era quel volto di tenebre che aveva come unica preoccupazione preservare da ogni ombra e da ogni nube il sorgere di un astro lì era il segreto di Jean Valjean e anche il segreto di Dio di fronte a quel duplice segreto Marius indietreggiava l'uno lo rassicurava in qualche modo sull'altro Dio in quell'avventura era altrettanto visibile di Jean Valjean Dio ha i propri strumenti e si serve del mezzo che vuole non è responsabile di fronte all'uomo sappiamo forse noi come Dio scelga Jean Valjean aveva operato su Cosette aveva un po' forgiato quell'anima questo era inconfutabile e bene e con ciò l'operaio era orribile ma l'opera era mirabile Dio compie i suoi miracoli come gli pare aveva costruito quell'incantevole Cosette e si era servito di Jean Valjean gli era piaciuto scegliersi quello strano collaboratore deve forse rendercene conto è forse la prima volta che il letamaio aiuta la primavera a fare la rosa Marius si dava quelle risposte e affermava a se stesso che erano valide su tutti i punti che abbiamo appena indicato non osava incalzare Jean Valjean senza però confessare a se stesso che non osava adorava Cosette possedeva Cosette Cosette era splendidamente pura e questo per lui era sufficiente di quali schiarite aveva bisogno Cosette era una luce una luce ha forse bisogno di essere schiarita aveva tutto cos'altro poteva desiderare tutto non è forse sufficiente le vicende personali di Jean Valjean non lo riguardavano chinandosi sull'ombra fatale di quell'uomo si aggrappava a questa solenne dichiarazione del miserabile io non sono nessuno per Cosette soltanto dieci anni fa non sapevo che esistesse Jean Valjean era un passante lui stesso l'aveva detto ebbene passava chiunque fosse stato il suo ruolo era terminato ormai c'era Marius a svolgere le funzioni della provvidenza accanto a Cosette Cosette era giunta a trovare nell'azzurro il suo simile l'amante lo sposo il suo maschio celeste e involandosi Cosette alata e trasfigurata lasciava a terra dietro di sé vuota e orribile la sua crisalide Jean Valjean in qualsiasi giro di idee si rivolgesse Marius giungeva sempre ad un certo orrore per Jean Valjean un orrore sacro forse perché l'abbiamo indicato egli avvertiva un quid divinum in quell'uomo ma qualsiasi cosa facesse per quante attenuanti potesse cercare e egli doveva pur sempre ricadere su questo punto era un forzato cioè l'essere che nella scala sociale non ha neppure un posto essendo al di sotto dell'ultimo scalino dopo l'ultimo degli uomini viene il forzato il forzato per dir così non è più simile ai vivi la legge gli ha tolto tutta l'umanità che è possibile togliere ad un uomo riguardo ai problemi penali marius per quanto democratico condivideva le concezioni più rigide e verso coloro che erano colpiti dalla legge assumeva il punto di vista della legge stessa non aveva ancora abbracciato il progresso confessiamolo in tutta la sua estensione non sapeva ancora distinguere tra ciò che è scritto dall'uomo e ciò che è scritto da dio tra la legge e il diritto non aveva esaminato e valutato a dovere il potere che si arroga all'uomo di decidere ciò che è irrevocabile e irreparabile la parola vendetta non gli faceva orrore trovava normale che a certe effrazioni della legge seguissero pene eterne accettava la dannazione sociale come un elemento della civiltà era fermo a quel punto ma più tardi sarebbe andato oltre perché la sua natura era buona e costituzionalmente portata al progresso dal fondo di queste idee Jean Valjean gli appariva deforme e inaccettabile era il reprobo era il forzato quella parola era per lui come il suono della tromba del giudizio universale e dopo aver considerato a lungo Jean Valjean la sua ultima reazione era di distogliere lo sguardo va de retro marius dobbiamo riconoscerlo e insistervi pur interrogando Jean Valjean al punto che questi gli aveva detto voi mi confessate tuttavia non gli aveva posto due o tre domande decisive non che non ci avesse pensato ma ne aveva avuto paura la soffitta Gondrette la barricata Javert chissà dove si sarebbero fermate le rivelazioni Jean Valjean non sembrava uomo disposto a indietreggiare e chissà se Marius dopo averlo spinto non avrebbe preferito trattenerlo in certe supreme circostanze non è capitato a tutti noi dopo aver posto una domanda di tapparci le orecchie per non udire la risposta soprattutto chi ama è soggetto a queste viltà non è saggio interrogare ad oltranza le situazioni sinistre soprattutto quando una parte fondamentale della nostra vita vi è legata in modo fatale dalle disperate spiegazioni di Jean Valjean poteva uscire una luce spaventosa e chissà se il riverbero di quel bagliore odioso non avrebbe raggiunto Cosette chissà se sulla fronte di quell'angelo non sarebbe rimasto un chiarore infernale gli effetti di un lampo sono ancora folgore ci sono complicità nel destino e l'innocenza assorbe il crimine per la cupa legge dei riflessi colorati i volti più puri possono conservare per sempre il rifrangersi di una orribile vicinanza a torto o a ragione Marius aveva avuto paura aveva saputo già troppo desiderava più stordirsi che essere illuminato sconvolto si portava via Cosette tra le braccia chiudendo gli occhi su Jean Valjean quell'uomo apparteneva alla notte all'orribile vita della notte come osare sondarne il fondo interrogare un'ombra è spaventoso cosa dirà l'alba potrebbe venire oscurata per sempre in queste condizioni d'animo Marius provava una straziante perplessità al pensiero che quell'uomo potesse avere un qualsiasi contatto con Cosette quelle temibili domande davanti a cui era indietreggiato e da dove avrebbe potuto uscire una decisione implacabile e definitiva ora quasi si rimproverava di non averle fatte era troppo buono troppo dolce diciamolo troppo debole e quella debolezza lo aveva costretto ad una imprudente concessione si era lasciato commuovere aveva sbagliato avrebbe dovuto semplicemente allontanare Jean Valjean avrebbe dovuto salvare il salvabile liberare casa sua da quell'uomo era in collera con se stesso era in collera con quell'improvviso turbine di emozioni che l'aveva assordato accecato trascinato era scontento di se stesso e ora che fare quelle visite di Jean Valjean gli ripugnavano profondamente come quell'uomo in casa sua che fare e qui si stordiva non voleva scavare non voleva approfondire non voleva sondare neppure se stesso aveva promesso sarà lasciato strappare quella promessa Jean Valjean ci poteva contare anche a un forzato soprattutto a un forzato non si deve mancare di parola però il suo primo dovere era verso Cosette era come spinto da una repulsione che sovrastava tutto Magius passava e ripassava confusamente quell'insieme di idee nel suo animo andando da una all'altra e tutte lo agitavano da qui un profondo turbamento non gli fu facile tenere nascosto quel turbamento a Cosette ma l'amore è ingegnoso e Magius ci riuscì del resto fece delle domande senza scopo apparente a Cosette che era candida come una bianca colomba e non sospettava niente gli parlò della sua infanzia e della sua giovinezza ed egli si convince sempre di più che quel forzato era stato per Cosette quanto di buono di paterno e di rispettabile può essere un uomo tutto quello che Magius aveva intravisto e supposto era reale quella sinistra ortica aveva amato e protetto quel giglio